Ciao a tutti, sono Francesca Ramone, premettendo che è la quinta volta che inizio questo video e sono sempre stata interrotta da qualcuno o qualcosa o il video ha smesso di funzionare per ragioni ignote o cose del genere, quindi se mi dimentico qualcosa è per quello, perché credo di averlo già detto. Comunque, a parte questo, lo so che è tanto tempo che non raggiorno il vlog, infatti questa puntata sarà un po' diversa perché al posto che parlare all'Africa come al solito di tutte le news eccetera, partirò dagli oggetti per raccontare un po' della mia esperienza qui. Allora, oggetto numero uno, aiuto cosa sta succedendo lì sotto? Tutti che urlano, vabbè, allora oggetto numero uno è il libro di chimica, questo libro è l'unico che ho portato a casa, quindi vi farò vedere questo oggi. Allora, ha più o meno 800 pagine, è molto grande, è molto diverso, vedete, 811 ma poi ce ne sono ancora molte, è diverso da quelli italiani, ha la copertina rigida, è gigantesco, e diciamo c'è tutto, comunque, è come un libro universitario, Cioè, ogni tanto mi viene in mente qualcosa che voglio sapere o che ho sempre voluto sapere, vado nell'indice e qui c'è, spiegata in maniera dettagliata eccetera, è veramente un libro bellissimo. E poi, diciamo, questo è anche, appunto, come dicevo, questo qui è uno dei più piccoli che ho, e insomma da questo si può intendere l'utilità degli armadietti, perché visto che bisogna cambiare classe ogni ora, avere tipo 5 di questi libri non sarebbe possibile, e quindi qui interviene l'armadietto. Poi, restando in ambito scolastico, io voglio far vedere il pass per la biblioteca, qui per muoversi per la scuola bisogna avere dei pass che dicano dove stai andando. Sul mio c'è scritto, library to watch Obama, cosa vuol dire? C'era il discorso di Obama agli studenti, era in diretta da Washington DC, lo fanno vedere in tutte le scuole, e questo è stato, si poteva andare a vederlo se si voleva, e ovviamente io sono andata, è stato fantastico, perché, diciamo, era rivolta agli studenti, e comunque c'è, parlava, parlava veramente come se stesse parlando con ognuno, no? Parlava esattamente della scuola, di quello appunto che dobbiamo fare, delle opportunità che abbiamo, eccetera. Quello che mi ha fatto piacere, sentivo dei passi, non vabbè, niente, comunque, quello che mi ha fatto piacere era che comunque, oltre che capire la lingua, cioè, lo sentivo e capivo più o meno tutto, capivo comunque veramente ciò che intendeva, perché, diciamo, parlava della scuola qui, in termini che comunque, se non, diciamo, essendo sempre stata in Italia, non avrei potuto cogliere, diciamo, il significato veramente di ciò che intendeva, e quindi, comunque, questo mi ha fatto sentire parte del, appunto, della scuola, del modo di vivere negli Stati Uniti, eccetera, e non un turista, diciamo, ecco. Poi, un'altra cosa che ho scelto qui è stata questa lattina, che a proposto di Obama, sembra che abbia la faccia di Bush qui, ma non è la faccia di Bush, è praticamente una specie di tè freddo, limonata, si chiama Arizona, e gli americani la bevono tutto il tempo, cioè, loro non bevono acqua, bevono solo di queste schifezze qui, tipo una cosa con così tanti zuccheri che, cioè, credo, se ne beve un sorso muoio direttamente, cioè, più basta, muoio. Ehm, vedete, più fancy can, molto design innovativo. Comunque, ovviamente, me l'hanno offerta, non l'ho aperta, credo, la conserverò per sempre, senza mai berla. Poi, un'altra lattina che ho è la mitica Pops Blue Ribbon. Vedete, è un po' in cattive condizioni. Ah, parentesi, la Pops Blue Ribbon è la birra di Green Day. Ehm, per chi non lo sapesse. Ehm, comunque, la mia house family non voleva comprarmi né una lattina, neanche vuota. Ehm, sapete che qui c'è l'alcol di Vietai 21, vabbè. Per motivi, comunque, irrazionali, dico la mia house family, perché, insomma, una lattina vuota. Comunque, ho trovato questa qui sul ciglio della strada, mentre tornava a casa a piedi. E allora ho pensato bene di prenderla, lavarla, chiaramente, e conservarla, e niente. Sono molto affezionata per ben noti motivi dei Green Day, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, ambito Green Day. Comet Bus 54, in China, with Green Day. Ehm, l'ho ordinato su Amazon. Finalmente l'ho potuto ordinare senza costi di spedizione, eh, pazzeschi. E lo sto leggendo e circa, per ogni pagina, sottolineo tutte, non so se si vede perché a matita chiara, sottolineo le parole che non capisco e le cerco sul vocabolario o chiedo una spiegazione ai miei compagni di scuola. Questo, quindi, insomma, la lettura di questo mi sta prendendo molto tempo, però assolutamente ne vale la pena e l'ho quasi finito, quindi, credo ne ordinerò un altro presto. Poi, ehm, un'altra cosa, vediamo, ah sì. Allora, vabbè, a parte la mia bellissima maglietta, We Run This Town, ma questa non era prevista. Le All Star. Perché vi sto facendo vedere un paio di All Star nere, apparentemente normalissime? Perché, ehm, qui negli Stati Uniti le ho pagate, quanto le ho pagate? 20 euro. Quest'anno pochissimo. E quindi, niente, questa è semplicemente una particolarità, visto che, insomma, ho risparmiato circa 40 euro o più rispetto all'Italia, e questo, diciamo, non può che fare molto piacere, quindi adesso ho il mio Star nere a soli 20 euro. Cioè, che poi sarebbero dollari, però, comunque, il prezzo è quello. Poi, ehm, il biglietto della Deerfield Fair. Ehm, questa fiera è praticamente una country fair, cioè, una fiera di campagna. È enorme, ci saranno state, io credo, ma, un, 50.000 persone, ve lo giuro, non sto esagerando, c'era veramente fiumi e fiumi di gente, solo quando, quando sono andata io, erano le otto e mezza del mattino, e, e sembrava veramente il concerto dei Green Day al Milton Keyes. C'è, proprio, c'era questo parcheggio gigante a perdita d'occhio, tutte le macchine, tutta la gente, i pullman di gente. Niente, entrati dentro, ingresso da, da 10 dollari.